Sono arrivati anche dalle altre regioni per partecipare al dodicesimo concorso per aspiranti barman organizzato come ogni anno dall'alberghiero di Termoli. Tanti gli studenti che si sono sfidati e che sono stati valutati da una giuria composta da quattro soci dell'Aibes, l'associazione barman di Abruzzo e Molise. I ragazzi al ritmo di musica hanno preparato con professionalità i cocktail più in voga del momento, come il Cosmopolitan. Abbiamo delle rappresentanze esterne, abbiamo delle scuole tipo Vieste, Foggia, Nardò, abbiamo Villa Santa Maria, Roccaraso, addirittura da Salerno che stanno partecipando al nostro concorso. Abbiamo diviso il concorso in tre categorie, junior, senior e guest. I junior sono i ragazzi del secondo anno che prepareranno un cocktail Liberty e Blue Hawaiian. Poi abbiamo altre due categorie che sono i senior, che sono i ragazzi del terzo, quarto e quinto anno e i ragazzi, i guest sono i ragazzi esterni, quelli che vengono dalla parte esterna, dalle regioni esterne. Poi abbiamo, ecco, loro dovranno preparare un cocktail Blue Hawaiian Colada e il Cosmopolitan. È un cocktail, diciamo, apprezzato anche da Madonna, è un cocktail internazionale e qui oggi i ragazzi stanno qui per sfidarsi in questa manifestazione. La giornata apre la manifestazione di tre giorni viaggiando con gusto, che domani vedrà il Suclucco. La festa del cuoco è un corteo di chef indivisa provenienti dal centro-sud, che in processione dall'alberghiero si dirigeranno verso il borgo per incontrare il loro patrono San Francesco Caracciolo. Dalle 13 prende il via degustando in Piazza Duomo una manifestazione in collaborazione con le associazioni di categorie enogastronomiche e turistiche per finire la giornata con un convegno dal titolo Il Cuoco tra Passione e Professione.